Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale BreakTech. Oggi parliamo di un oggetto, già lo state intravedendo, perché parliamo di uno speaker. Mettetevi comodi perché ragazzi sono non contento di più di poter portarvi la mia esperienza che utilizzo, la mia recensione, di questo DVD 2 Pro, che è un oggetto che ragazzi, come l'ho visto, già dal packaging mi sono innamorato, me ne sono veramente innamorato. Mettetevi comodi e adesso vi spiegherò tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e queste cose, lo sapete, qua sotto il link di tutto. Vi lascerò poi il link molto importante per acquistare e soprattutto per entrare nello store di DVD, quindi mi raccomando qua sotto potete cliccare e se siete interessati ad acquistare questo prodotto o altri prodotti della stessa azienda, vi lascerò anche un codice sconto, che metterò in questo momento qua sopra impressione, anche sotto nelle descrizioni, che per un acquisto superiore di 45 euro avrete a disposizione uno sconto del ben 10%, quindi vi raccomando qua sotto c'è tutto scritto, ci sarà anche la recensione scritta sul nostro sito www.breaktech.it. Ma ora ragazzi partiamo, perché c'è tanto da dire e soprattutto tanto da vedere, perché lui è sì uno speaker, ma è molto molto alto ragazzi. Adesso ve lo racconto, adesso vi racconto la mia esperienza di utilizzo di questo DVD 2 Pro, che è un prodotto impressionante, io ragazzi lo adoro, lo adoro, lo amo, io ringrazio i ragazzi di DVD che mi hanno contattato perché volevano e mi hanno chiesto, anzi se io volevo portare una recensione esperienziale del loro prodotto, quindi mi è data questa bellissima collaborazione, e io le ringrazio di cuore perché ne sono rimasto non entusiasta di più, perché volevo provare da sempre un prodotto della loro azienda, ma non tanto per un fattore di audio, ma proprio per un fattore estetico, perché ragazzi ma guardate che bello è, cioè è un oggetto che bisogna avere, c'è poco da fare, bisogna avere. Lui è bellissimo, con il suo schema di 256 pixel, con le sue animazioni, le sue funzionalità, adesso vi spiegherò tutto, è stupendo, tra l'altro l'azienda ci tiene tantissimo, nel senso lavora bene sui suoi prodotti, si vede la cura nei dettagli, non in minimo particolare. Lui è la variante Pro, ragazzi, bella, con non neanche tanto pesante, partiamo dal packaging, perché già lì si capisce quanto un'azienda ci tiene i propri prodotti, e arriva il packaging con questo cofanetto, che tra l'altro funziona da trasportino, quindi possiamo andare a trasportare, a portarci dietro il nostro D2 Pro ovunque, senza aver paura che si possa rompere, possa ricevere comunque dei danni trasportandolo, perché grazie al suo case possiamo portarlo ovunque, case molto carino. Tra l'altro all'interno troviamo anche due pagine di sticker, quindi molto carina questa cosa qua, i bambini l'hanno autorati, quindi li ho dovuti subito portare via, perché erano già lì pronti a prendere e attaccare questi sticker di tema pixel art ovunque per casa, e poi abbiamo il cavetto per ricaricarlo. Lui, essendo la variante Pro, si accende dalla parte posteriore, che è coperta da questo, tra le virgolette, tastino, coperchio in gomma, anche qua dettagli ottimi, e troviamo l'ingresso anche per una microSD, e l'ingresso Type-C per caricare il case, anzi la cassa, lo speaker Bluetooth, e poi abbiamo in mezzo il tasto accensione e spegnimento. Dal momento che si accende, lui vi porta in un mondo retro, dai suoni, dalle immagini, dalle animazioni, questo stile pixel art è una roba pazzesca ragazzi, si fa veramente amare, perché lui ha delle funzioni interessantissime, è super personalizzato, ma la cosa che mi ha convinto, la cosa che mi ha stupito tanto, è una community all'interno di questo mondo di VV, che è impressionante, perché troverete, ma veramente, tantissime pixel art all'interno dell'applicazione, dove potete andarle a mettere subito, con un click, in maniera veramente super facile, nel vostro D2 Pro. Tra l'altro, nell'applicazione si può andare a modificare, creare, possiamo fare di tutto, andando a smizzarrirci, per quanto riguarda questo bellissimo display. Io però mi soffermerai un attimo adesso ragazzi, sull'hardware, perché uno dice, ok, è uno speaker diverso dal solito, ha un monitor, no no ragazzi, è proprio la qualità, perché qui abbiamo dei tasti, che sono una tastiera meccanica, retroilluminata, tastiera che ha un feedback che è impressionante. Io amo poi il joystick, che cliccandolo, cioè è cliccabile, quindi dà l'ok quando entriamo nei vari menu, che è fantastico, anche questo sembrava una cosa finta, invece no, è reale, nel senso funziona, ha una sua funzione, come hanno una sua funzione tutti questi tasti, perché non sono lì per caso, non è soltanto estetica, ma hanno tutto e tutto un fatto funzionale. Per quanto riguarda questo speaker, qua abbiamo il tasto rosa, che è l'unico tasto che è colorato in modo diverso dagli altri, che ci va a mettere nel menu, a far entrare nel menu di questo D2 Pro, dove abbiamo cinque selezioni, dove possiamo andare a controllare qual è l'hardware che stiamo utilizzando per riprodurre appunto la musica, se lo stiamo connettendo con uno smartphone, viene da dire, o un PC tramite Bluetooth, tramite Wi-Fi o tramite cavo. Abbiamo poi la particolarità di mettere il contattore di punteggio, che può essere utile quando andate a giocare, con degli amici, è una cosa molto carina. La possibilità di mettere la sveglia, che la sveglia tra l'altro, una volta impostata, funziona anche se lui è spento, questa cosa è geniale. Abbiamo poi il fonometro, abbiamo la possibilità di mettere anche delle pixel art inerente al tempo, quindi al meteo, alla temperatura. Quindi pensate quante cose si possono fare. E poi, ragazzi, io ci ho perso del tempo, ci ho perso proprio delle ore. Abbiamo i minigiochi. E quando io ho visto Snake, boh, sono ritornato indietro vent'anni. Di vent'anni mi sono messo a giocare. Anche perché proprio toccando i tasti è proprio diventa una droga, ragazzi. Diventa una droga perché è una tastiera meccanica di una qualità impressionante. Cioè, assurdo. Tra l'altro, poi, possiamo impostare tramite il tasto dove viene raffigurato tipo un sole. Possiamo andare a impostare anche delle pixel art che abbiamo già impostato a livello personalizzabile nella nostra applicazione. Quindi mi spiego. Io nell'applicazione posso mettere fino a 12 pixel art che ho scelto io dalla community. Quindi lui me ne fa andare in random. Possiamo andare ad abilitare il suono. Quindi io ho impostato questo tipo di sveglia e orologio. Anzi, come vedete, abbiamo anche l'animazione della mia voce. Questa cosa è fantastica. Anche perché lui ha un microfono incorporato. E quindi super, super completo. Tra l'altro, possiamo anche mettere l'immagine dove ci va a dire e riconoscere il titolo della canzone che viene riprodotta. Quindi capite quanto sia completo. Veramente completo a livello hardware, a livello di funzioni. Funzioni che poi vengono, cioè esplodono letteralmente una volta che si passa sull'applicazione. E nell'applicazione, ragazzi, c'è veramente di tutto. Adesso però vi voglio far vedere, anzi far sentire, prima di entrare nell'applicazione, a parlare dell'applicazione, un po' anche come va questo speaker. Perché è un 15 watt. E ragazzi, come suona questo D2 Pro? Come suona? Sentite un po'? E ragazzi, 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 ragazzi. Quindi avete visto che, oltre la sua bellezza, oltre il fattore di essere super funzionale, è anche un vero e proprio speaker con dei bassi ottimi, una qualità audio e un sovruto di volume che mi ha sorpreso. L'applicazione, ve lo dicevo, è ben fatta. La cosa che mi ha colpito è la semplicità di utilizzo. Ci sono vari menu all'interno, dove noi possiamo fare tante cose. C'è il mixer, dove possiamo utilizzare tantissimi strumenti per creare della nostra musica e passare del tempo. Possiamo creare delle pixel art a nostro piacimento, praticamente da zero. Tramite lui, quindi al livello proprio di menu, con i tasti fisici, possiamo anche andare a giocare con delle raffigurazioni che dobbiamo andare a colorare, veramente pixel art, veramente questa cosa è pazzesca. E' buono poi il fatto che possiamo andare a controllare il meteo, possiamo andare ad abilitare le notifiche. Un'altra cosa che mi è piaciuto è proprio le notifiche che lui va a riprodurre con questo schermo, perché per ogni notifica che riceviamo, minimamente WhatsApp, Telegram, Instagram, lui andrà a far comparire sul display proprio l'iconcina dell'applicazione. Questa cosa è fantastica. Io stavo lavorando al computer, mi arrivavano le notifiche sul telefono, senza che dovevo andare a vedere, mi usciva l'iconcina che è solo di Telegram, sapevo che era Telegram. Questa cosa l'ho adorata. Poi possiamo andare a scaricare veramente tantissimi, io li chiamo temi, questi temi pixel art animati. Quella cosa bellissima della community che è il continuo espansione e aggiornamento. Per ogni cosa mi viene in mente se siamo a Natale, sotto Natale, sotto Halloween, adesso c'è la festa della mamma ad esempio, ci sono tutte queste pixel art a tema creati dalla community, che sono veramente stupendi, ci sono quelli statici, quelli con tanto di animazione, sono bellissime. Poi io quando sono andato nella barra di ricerca, avviso ce ne sono veramente tantissime, ho scritto Marvel oppure Avenger e ho trovato tantissimi sfondi dei miei personaggi preferiti, io sono un appassionato, beh capite ragazzi che l'amore lì è proprio esploso, infatti li ho messi tutte come preferiti, perché possiamo mettere come preferiti e lui in automatico ve le farà vedere random, quindi per quello che avete salvato, perché potete anche salvarvi. Quindi una ottima applicazione perché è molto molto completa, ripeto, la cosa fantastica è la semplicità di utilizzo, che è sempre molto importante quando si utilizzano comunque prodotti particolari, con il fattore di avere questa applicazione che può andare anche ad aggiornare il software, quindi insomma, brava, brava DV, che ha pensato a tutto, non solo a livello hardware, ma anche a livello software, ha fatto un lavoro eccezionale, veramente eccezionale. Insomma ragazzi, lui l'avete capito, mi è piaciuto, mi è piaciuto da morire, è un speaker che è una cassa che suona benissimo, un 15 watt reali che sono molto molto potenti e che soprattutto hanno una qualità audio buona, ma poi lui, il display, il display è bellissimo, le sue funzioni sono stupende, si può fare veramente tanto, veramente veramente tanto e poi come è costruito, questi tasti meccanici, il fatto che siano retroilluminati, che non è da poco ragazzi, non è cosa da poco, me lo fa amare, tra l'altro lui ha anche una batteria che dura veramente tanto ragazzi, io da quando l'ho ricevuto ancora non l'ho caricato e vi dico che lui sta acceso sulla mia scrivania più o meno 2-3 ore al giorno, perché lo utilizzo anche appunto come lettore di notifica, vedete che quando arriva la notifica si illumina, molto molto carina questa cosa e niente ragazzi, mi è piaciuto da morire. Io, se siete interessati a questo prodotto o ad altri prodotti dell'azienda Divo, vi lascio qua sotto il loro shop, quindi potete andare a trovare tutti i loro prodotti e se siete interessati ad acquistarli e superate una cifra di 45 euro, avrete qui sotto, ve lo lascio, scritto il codice sconto che vi potrà dare la possibilità di avere uno sconto del bel 10% sul vostro acquisto. Quindi mi raccomando, qua sotto vi lascio tutti i dettagli del caso. Tra l'altro, lui, troverete la recensione scritta, completa sulla nostra pagina, sul nostro sito internet, www.breaktech.it. Quindi, qualsiasi caratteristiche, per quanto riguarda anche le sue specifiche, tecniche, più approfondite, troverete tutto nella recensione scritta che lascerò qua sotto in casa. Per questa recensione quindi è tutto, io ringrazio ancora i ragazzi di Divoom che veramente hanno dato la possibilità di testare questo prodotto. Ragazzi, avete fatto un lavoro eccezionale, è bellissimo, non potete non averlo, non potete non averlo, stupendo. Quindi, ora vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, seguitemi, perché arriveranno delle chicche, non da poco, sul canale, lo sapete, Breaktech porta sempre cose super innovative. Io sono Fabio, da Breaktech, ciao da tutti, e ciao dal dvd2pro. Geniale, ragazzi, geniale, lui è semplicemente geniale. Ciao.